Fare il giornalista non è il mestiere più pericoloso del mondo, ma in certe parti del mondo, se fai bene il giornalista, smascheri le bugie di regime e metti alle strette i potenti, ci lasci la pelle. Quest'anno Reporter San Frontier ne conta 32. Cinque cronisti eliminati dai narcos in Messico, quattro fatti fuori nell'Iraq tutt'altro che pacificato, tre in Honduras, Siria e Pakistan, due nelle Filippine e in Somalia. Zone di guerra o guerriglia, dove, come si suol dire, la prima vittima è la verità. Non è retorica, sono persone in carne e ossa, anche se di loro sappiamo poco o nulla, ma anche qualcuno vicino a noi con le sue inchieste si è fatto nemici pericolosi e vive sotto scorta. Non può esserci impunità, non deve esserci impunità per chi colpisce la libertà di informazione. In questi giorni in Italia si svolge il processo d'appello per l'assassinio di Andy Rocchelli, il giovane fotoreporter italiano ucciso nel Donbassi, in Ucraina. Ecco, tutte queste storie ci dicono che assolutamente bisogna lottare per la libertà di informare e la libertà di essere informati, perché infine a essere minacciata e la libertà dei cittadini ad avere informazioni indipendenti. Grazie. Grazie.